Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, eccomi qua nel mio messaggio del giorno per voi, le mie carte sono tutte pronte, ve le elenco subito. Allora abbiamo per questa mattina le tarocchi Wicca, della sessualità Wicca, abbiamo le Sibille Italiane, abbiamo le Sibille Lenormand, abbiamo i Rider White Tarot, abbiamo gli angeli, le risposte degli angeli, gli angeli dell'amore, i messaggi magici delle fate, poi come consiglio dipendente o indipendente dalla stessa abbiamo le carte dell'adivinazione, gli oracoli rispondono, e poi abbiamo le nostre carte verdi di Zaira, che come sapete, come al solito, vi danno l'indicazione di quello appunto di cui si parlerà oggi. Allora ragazze, io sapete come funziona? Io inizio subito a mischiare le mie carte, intanto vi dico grazie, grazie, grazie di seguirmi, grazie, grazie di tutti i bei commenti che mi fate, sapete che vi adoro, vi porto nel cuore, siamo sempre di più e grazie, grazie veramente dal profondo del mio cuore. Quindi insomma spero che questi miei interattivi vi facciano compagnia e che comunque vi rallegrano per qualche minuto per quello che posso umilmente fare, però sono contenta di questa sinergia che si è creata fra noi e quindi ben venga il tutto. Allora ragazze, sapete che appunto il messaggio del giorno non riguarda solo la giornata di oggi, ma è un messaggio che vi deve arrivare oggi, ma riguarda un po' a tutti gli aspetti della vostra vita. Quindi sono molto interessanti andare a vedere gli argomenti che vengono così trattati assolutamente in modo casuale, perché noi non sappiamo assolutamente di che cosa andremo a parlare da qui a pochi minuti. Ovviamente però vi dico anche che dovete sempre prendere le distanze da questi, diciamo, responsi, perché insomma sono interattivi generali, non possono prendere a tutti, siete tanti, migliaia di persone che visualizzate questi interattivi, quindi ovviamente non possono risuonare su tutti, però fermo restante che se volete avere, ecco qua, questa è proprio venuta fuori e la prendiamo. Se volete avere un consulto personalizzato e volete averlo con me nella descrizione del video, ci sono i miei contatti zairafasteri.gmail.com oppure nel mio profilo Facebook zairafasteri in messaggio privato o ancora nel mio profilo Instagram, zairafasteri, sempre messaggio privato. Allora ragazzole mie, io spero che voi state bene, ripeto, stiamo aprendo così le porte alla primavera, all'estate, io amo la primavera, amo l'estate. Ragazze, il bel tempo, il sole, il mare, le vacanze, insomma tutto questo ci dà energia, quindi godete al massimo, anche se state lì a rimuginare su un amore finito, su qualsiasi cosa che vi ha fatto stare male, pensate soltanto che la vita è bella, vale sempre la pena di viverla, quindi insomma recuperate sempre la vostra energia, questo è il consiglio che io vi do, perché sapete il mio motto è pensa positivo che ti viene la positività, no? Perché se noi ci mettiamo lì ad entristirci è buonanotte. Allora vediamo queste meravigliose carte della divinazione che consiglio ci danno per oggi. Prendiamo una carta anche qui, ecco qua, e infine toc 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 toc, vediamo le mie carte verdi di Zaira che indicazione ci danno oggi. Sono molto chiacchierine, sapete che non sbagliano un colpo, e andiamo a vedere qual è l'indicazione del messaggio di oggi per voi, andiamo a vedere, diciamo così, se non potete che esce sempre la stessa carta, io che ne so, io mischio, che ne so quello che esce. Allora, andiamo a vedere questa. Mi manchi da morire. Oh, questa è una bella indicazione che penso che fa piacere a tanti, perché comunque sapere che manchiamo a una persona, se poi è una persona che portiamo nel cuore, abbiamo fatto bingo. Vediamo invece la indicazione, diciamo il consiglio, a prescindere, poi dopo vedremo se ha un collegamento. Comunque è la carta immaginare, che ci parla appunto di concretizzare, di essere più concreti, cioè di evitare di illusioni, sogni, insomma romanticismo, voli, pindalici, insomma qua dice, qua dovete fare, dovete quagliare, poca immaginazione, più sì romanticismo, ma anche che il vostro rapporto diventi realtà. Quindi vi invito a questa carta a non crearvi troppe illusioni, ma a concretizzare ciò che desiderate. Allora andiamo a vedere. Qui abbiamo come prima carta il fante di coppe, abbiamo il letterato, abbiamo la montagna, e vabbè questo, hai retto una montagna, abbiamo il 5 di spade centrale, abbiamo trova un compromesso, esprimi il tuo amore, sii paziente. Quindi qua le carte sono belle, ve lo dico subito. Allora andiamo a vedere di che si tratta. Qua abbiamo detto questa persona, voi mancate da morire, quindi insomma se gli mancate, è ovvio che ci sta qualcosa fra voi, a questa persona che ci può stare. Una montagna, guardate che cosa c'è fra voi e questa persona. Un monte, una montagna, qui c'è un muro, ci sono degli ostacoli, dei ritardi dovuti a un blocco, quindi c'è un'incapacità di muoversi, c'è una, come dire, barriera. Questa persona però in questo momento è solo, è molto perpresso, è una persona molto caparbia, e insomma è una persona anche dura, è una persona che crea molti conflitti. Questo vi ha proprio ferito, vi ha proprio fatto male per i suoi comportamenti, probabilmente così caparvi, no? Vedete come viene fuori questa carta, quello che vi ho appena detto. Però questa persona, insomma, in passato probabilmente vi ha creato delle situazioni che vi ha molto ferito, vi ha proprio reso infelice, vi ha ferito l'anima, ecco diciamo così. Però che cosa è successo? Qui è successo che all'improvviso lui ha scoperto qualcosa, qui vi ha letterato, l'ha scoperta. Lui pensando, pensando, ripensando, ripensando, che cosa ha scoperto? Ha scoperto che vuole avere una capacità di comunicazione, vuole focalizzarsi su qualcuno. Abbiamo qui la principessa di Coppe, che nelle carte, che sarebbe il fante di Coppe, che nelle carte della sessualità wicca viene così identificato come la fanciulla di Coppe. Quindi ha scoperto questa persona il vostro valore, ha scoperto chi siete, cosa avete fatto per lui, quello che avete rappresentato per lui. Qua in questa situazione sicuramente ci sono stati molte illusioni, molto romanticismo, sogni, molto immaginazione, fantasticare, poca concretezza. proprio perché lui creava questi ostacoli, era incapace di muoversi, aveva probabilmente delle situazioni sue di blocco. Poi sapete, è un interattivo, ognuno sa. Però vedete, questa persona adesso vuole trovare un compromesso con voi. Gli angeli dicono voglio trovare un compromesso. Ripeto, gli mancate da morire. Lui dopo la rottura, il blocco, l'ostacolo, la montagna e mezzo, ha capito che gli mancate da morire. Quindi vi ha rivalutato, ha scoperto che vuole focalizzarsi su di voi. Perché? E che cosa vuole fare? Vuole esprimere il suo amore. Vedete, la carta esprime il tuo amore. Quindi qua vai avanti e compi un gesto romantico. Le carte divinatorie delle messaggi magici delle fate dicono si paziente. Quindi perché dovete essere paziente? Perché quello che chiedi sta per realizzarsi. abbi pazienza perché prima ci sono fattori invisibili che devono verificarsi. Quindi questa carta vi dice in conclusione cosa vi dice questo messaggio di oggi? Vi dice che voi avete vissuto con una persona con cui eravate molto legati una barriera, un ostacolo, un ritardo, un muro, un blocco, qualcosa che forse a causa della sua modo di essere, a causa di qualche altro impedimento? Insomma, questa situazione ha creato conflitti, ansia, ha creato questo blocco quasi insommontabile. Però questa persona iperlogica pensando, 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 ha scoperto cosa? Ha scoperto che vuole trovare un compromesso perché si è rifocalizzato verso di voi, vuole una comunicativa con voi, vuole trovare un compromesso, vuole esprimere il suo amore perché? Perché gli mancate tanto. Ecco, la carta immaginare, lui si sta chiedendo, dice, qua devo far sì che questo rapporto diventa realtà e quindi la carta vi dice sì, paziente, perché ci sono ancora due, tre cose da, dovete avere pazienza perché ci sono due, tre fattori invisibili che voi non sapete per poter abbattere questa montagna, ma poi tutto quello che chiedete si sa per realizzare perché è venuto il tempo divino di raccogliere i frutti di una situazione che vi ha fatto veramente tanto, 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 tanto soffrire. Quindi ragazze, ragazzi, questo era il messaggio del giorno per voi di oggi, io vi aspetto tutti nei commenti, un bacione enorme dalla vostra Zahira, buona giornata a tutti, a domani, ciao! Ciao! Grazie a tutti.